Proprio mentre la polizia arrestava un senegalese irregolare senza fissa dimora accusato di essere l'autore di 7-8 spaccate ai danni di negozi locali del centro, a Padova si registravano altri quattro colpi tentati o messi a segno ai danni di altrettanti negozi, modalità diverse rispetto a quelle dell'arrestato che fanno pensare ad una banda di professionisti e che testimoniano come l'allerta criminalità in città rimanga alta. I commercianti hanno deciso di scendere in campo con delle passeggiate notturne di controllo. La misura è colma, ormai è evidente che la città è sotto assedio, il sindaco che è la delega alla sicurezza non si muove, abbiamo un corpo di polizia municipale che in molti ci invidiano ma non è utilizzato nella maniera giusta. Non c'è solamente l'allerta per le spaccate allarme e sicurezza, c'è anche la città di L nella vostra protesta. Oltre ovviamente a presidiare il territorio armati esclusivamente con i nostri telefonini e le torce elettriche, diremo anche no a questa scelta scellerata che è stata effettuata dall'amministrazione comunale di istituire la ZTL. La nuova ZTL notturna e la denuncia contribuisce a desertificare il centro e sta creando danni alle attività commerciali. Già qualche esercente che ci sta chiamando lamentandosi del calo di fatturato, delle multe che hanno preso i loro clienti, della scarsa comunicazione che è stata data da parte dell'amministrazione su questo nuovo dispositivo, sulle modifiche e quindi contiamo anche di incontrare l'amministrazione comunale per far presente queste prime criticità. Naturalmente per noi rimane valido il fatto che al massimo entro la fine dell'anno bisognerà poi fare il saldo tra benefici e gli aspetti negativi.